Gli hai già inviato i tuoi brani? No? E allora mandameli subito con la cartolina che trovi nella birreria e ci vediamo qui su Video Music, il palco scenico dei grandi musicisti. E se anche tu sei un bravo musicista, l'occasione te lo offre l'Effa Blonde, l'autentica birra da pazia. Teletour, il telefono dei viaggi. Le vacanze da quest'anno le potete scegliere al telefono. Le migliori offerte dei principali operatori turistici e le disponibilità dell'ultimo minuto per le vostre vacanze in Italia e all'estero. Telefonate all'144 114 144. Spți-iada! Spți- cé dei sang Rabbi! Spți-nde! Spți-nde! Spți-nde!